buongiorno a tutti oggi preparo un dolce per la festa delle donne un dolce mimosa mi occorre per l'impasto 200 g di farina un po di vaniglia 120 ml di latte 80 g di burro 100 g di zucchero 2 uova un pizzico di sale e 8 g di lievito per dolce per il ripieno 300 g di crema pasticcera 100 g di marmellata di fragole e 2 cucchiai di panna montata per decorare pan di spagna inizio la preparazione metto le uova nella bun metto lo zucchero e inizio a montarle montate le uova aggiungo il burro il burro deve essere ammorbidito a questo punto inizio a mettere la farina l'aggiungo poco alla volta metto la vaniglia precedentemente ho setacciato la farina ora aggiungo il latte e alterno latte e farina a questo punto metto il pizzico di sale a questo punto aggiungo il lievito setacciato prima l'impasto è pronto a questo punto lo metto in una teglia forma di 26 cm di diametro con l'incavo dentro precedentemente imburrata ora verso l'impasto dentro lo distribuisco bene ed eccolo finito lo vado ad infornare in forno caldo e statico a 170 per 20 minuti una volta pronta pronta l'ho lasciato raffreddare ora lo preparo metto la marmellata di fragole sopra questa l'ho fatta io se vi interessa il video la trovate qui a questo punto nella crema metto la panna e mischio guardate che bella ora la metto in una sac à poche ora la metto sopra la torta ora la metto sopra la torta ora la metto sopra la torta ora metto un altro poco di marmellata ora sbriciolo il pan di spagna ora lo aggiungo sopra eccolo pronto questo bellissimo dolce auguri a tutte le donne grazie della visione alla prossima iscrivetevi al canale condividete mettete mi piace grazie a tutti 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 Grazie a tutti.